Cibo e felicità, un binomio inscendibile secondo il cuoco contadino Peppe Zullo che nell'anno che precede l'Expo di Milano, che metterà al centro proprio i temi dell'alimentazione, accende i riflettori sulle problematiche legate allo spreco dei prodotti da mangiare. A Orsara di Puglia, capitale dell'enogastronomia dei Monti Dauni, terra per eccellenza delle produzioni a chilometro zero, se ne è discusso durante un incontro con il vescovo della diocesi di Lucera Troia, Monsignor Domenico Cornacchia, sul tema ristorazione ed economia sociale al termine della visita in paese dell'Alto Prelato. All'appuntamento hanno preso parte anche gli amministratori locali e gli imprenditori del settore enogastronomico e agroalimentare del Subappennino. 2015, questo grande evento, l'Expo di 2015 a Milano, che il tema è nutrire il pianeta. Pensiamo al tutto il cibo edilo e combustibile che viene buttato via e ne facciamo spazzatura, che è la cosa più triste, cioè praticamente creiamo un doppio danno. La Chiesa di Papa Francesco, ha detto Monsignor Cornacchia, dimostra di comprendere molto bene quanto i temi del cibo, della nutrizione e del ritorno all'agricoltura siano importanti per rilanciare un'economia più giusta che porti il benessere in tutta la società. Oggi purtroppo ci sono tanti che potrebbero vivere, non sopravvivere, con ciò che viene buttato dalle menze di noi paesi occidentali ed europei. Basterebbe un pizzico di fantasia, un po' più di volontà per suddividere con tanti popoli più bisognosi di noi, ecco ciò che è necessario per vivere.